Buongiorno, il tema politico di oggi resta la questione della Banca Popolare dell'Etruria, i botte, risposte tra Renzi, De Bortoli, Ghizzoni, insomma nessuna novità sotto al cielo. Sapete tutti quanti che Ghizzoni non ha risposta, oggi in 70 righe sul Corriere della Sera uno ha l'idea che possa esserci una risposta di Ghizzoni, mentre la giornalista dice no comment. Stessa cosa nel pezzo di Luciano Fontana, oggi il direttore sfodera le sue armi per parlare sempre della questione dell'Etruria e delle Popolare, delle dichiarazioni di De Bortoli, delle risposte di Renzi, devo dire ovviamente sulle posizioni più filo De Bortoli che filo Renziane, come era normale il direttore del Corriere della Sera. Poi sulla questione dell'Etruria, fatemi soltanto dire che Renzi ogni tanto veramente fa il guappo, ma il guappo lo conosco un pochino anch'io e quando fa il guappo è la parte peggiore di Renzi, non so da che cosa gli derivi, forse dal fatto di essere proprio in questo un po' un provinciale, quando dice De Bortoli, le abbiamo chiesto, forse ce l'ha con me perché non l'ho nominato in Rai, è proprio una cosa che secondo me un leader politico non deve neanche pensarla, non deve neanche pensarla, vorrei segnalare anche a De Bortoli, a Renzi che oggi tre consiglieri su sei o quattro consiglieri su otto del Consiglio di Amministrazione delle Rai, essendo pensionati, si lamentano che non prendono neanche l'emolumento da 66 mila euro lordi, 66 mila euro lordi per essere del Consiglio di Amministrazione della più importante società editoriale italiana, cioè come si fa, come fa Renzi a attribuire a De Bortoli l'ostio che De Bortoli c'ha nei confronti di Renzi, che esiste ed è vero per il fatto di non essere stato nominato in Rai, è veramente una di quelle cose talmente cheap che fa pensare che questo sia il modo di ragionare di Renzi, devo dire che se la poteva risparmiare, anche perché fare il Consiglio di Amministrazione della Rai con lì, col Conte Mascetti e l'altra la Maggioni mi sembra utile pari a zero, non è roba per De Bortoli ma neanche per persone normali, cioè è una specie di, vabbè insomma avete capito quello che penso, quindi si qualifica devo dire l'insulto per quello che è, è molto più interessante la posizione che oggi tiene Bisignani sul tempo ma anche che ha in una certa misura feltri sul libero e cioè stiamo facendo tutto questo casino per la popolare dell'Etruria e per la popolare dell'Emilia Romagna e ci siamo dimenticati che c'è un partito che ha fatto il conflitto di interessi, dei salvataggi e del chiudere gli occhi, la sua esistenza di vita sul Monte dei Paschi di Siera che da sola vale decine di miliardi di euro, di soldi bruciati e di centinaia di storia di ricchezza toscana buttata nel cesso, ecco insomma forse oggi sarebbe il caso di ricordare come fa bene Bisignani, come fa bene oggi Libero che il vero grande bubone nasce col Monte dei Paschi di Siera targato Partito Comunista Italiano, Partito Comunista Italiano, chiaro? Ce lo siamo dimenticati che è poi diventato PD, Grillo fa un'intervista al Corriere della Sera, non di quelle da stapparsi i capelli, dice due o tre cose relativamente interessanti la prima è che molti cattolici si risconoscono nei suoi programmi, nei programmi del Movimento 5 Stelle, vabbè, poi minchiate sulla legge elettorale che voi sapete mi interessano zero, quando la faranno ne discuteremo, ma per ora è una roba che interessa 300-400 persone che la discutono sulla nostra testa in Parlamento e sui vaccini si lamenta, piagnuco alla Grillo sui vaccini ce l'hanno con me, New York Times e compagnia cantante si lamentano semplicemente per una battuta che ho fatto in uno spettacolo di 20 anni fa, no caro Grillo non puoi prendere per il culo tutti, puoi prendere per il culo qualcuno ma non tutti, tanto quello spettacolo di 20 anni fa non è come gira la ruota di Renzi, è intelligente, sei un uomo intelligente ma sei veramente in cattiva fede, perché 20 anni fa hai fatto uno spettacolo serio sul motivo per il quale era assurdo vaccinare in Italia, ma lasciamo perdere lo spettacolo di 20 anni fa, tutto il resto racconta questo, il tuo blog ha raccontato questo, le tue proposte di legge hanno raccontato questo, quelle dei tuoi deputati, poi hai cambiato idea e hai fatto bene a cambiare idea, basta, chiuso il discorso, ma rendere questo simile, far finta che non ci sia stata una posizione del Movimento 5 Stelle o di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, diciamo il rituale nei confronti dei vaccini, che uno poteva anche difenderla, uno puoi prendere tutto in giro sempre, sempre, hai sempre ragione tua, è uno di quei ragazzini che ha sempre ragione, sempre ragione, comunque molti cattolici voteranno per lui, ci credo, col 30% dei voti in Italia sicuramente ci sarà qualche cattolico che lo vota. Sugli hacker, oggi altre paginate e paginate sulla cronaca degli hacker, io una sola cosa chiedo ai giornali oggi, un po' Repubblica lo fa, ma soltanto Repubblica, perché, almeno io forse perché sono fissato con la tecnologia, ma perché non ci spiegate come difenderci, come funzionano questi attacchi, invece di romperci le palle su chi è stato, i russi, i non russi, i greci, i francesi, gli italiani, su come si chiama questo wannabe, su quali sono gli ospedali che sono stati infettati, basta, l'abbiamo capito, spiegateli, spiegateci come arrivano, come ci difendiamo, cosa vuol dire per i sistemi operativi Windows 10, Windows 9, Windows 8, Windows 7, Windows a te la pesca, per chi ha gli iPad, fateci capire come funziona, cioè stiamo parlando di una malattia senza spiegare come questa malattia si propaghi, forse è l'unico caso del mondo in cui è più interessante capire la cronaca dei morti, piuttosto che sapere come evitare la malattia. Io non lo so, io non lo so perché i giornali non svolgono un'attività che poi ancora possono fare meglio degli altri, no? L'educazione informatica, dice Pier Giorgio, ha ragione, ci vuole l'educazione informatica, siccome noi siamo a zero, soprattutto nella nostra generazione, non i ragazzini, datecela, fatecelo capire, sulla televisione è difficile spiegarlo, sulla radio ancora di più, la carta stampata ancora ha un ruolo, invece di abdicare, di inventarsi 15 pagine sulle leggi elettorali, facessero un tentativo, capisco che Alessandro non è facile, ci provassero a spiegare, sì basta non aprire i link, fateci vedere i link, spiegate ai dummies che cosa sono i link, fatevi vedere quelli più famosi, inventateci una serie di trucchetti, secondo me questo sarebbe utile, ma evidentemente ai giornali interessa poco vendere copie o essere interessanti. Oggi è molto bello il tema che affronta, mi sembra, il quotidiano nazionale e il giornale, cioè l'idea che in Italia le imprese hanno un'ispezione ogni tre giorni, questo è il sistema italiano, mentre noi abbiamo gli hacker, abbiamo le tasse, abbiamo l'impossibilità di trovare mercati, il cavolo di funzionari pagati da noi, nostri dipendenti dell'intendenza di finanza, dell'ASL, vengono le nostre aziende a farci un mazzo così, perché noi siamo schiavi loro, siamo là che tremiamo quando arrivano, dovrebbero venire in punta di piedi, bussare, scusate, possiamo entrare nella vostra azienda a posto che con i soldi di quest'azienda ci pagate lo stipendio, scusate, invece guardate le ispezioni, sembriamo tutti delinquenti quando arrivano le nostre aziende. La stampa dice una cosa fantastica, dice che in realtà il piano di redistribuzione dei migranti in Europa, sapete quello per cui in tutta Europa si sarebbe dovuto prendere parte dei migranti italiani, bene, secondo una ricerca del Parlamento europeo fatta non da politici ma da tecnici, la colpa della non redistribuzione dei migranti, sapete di chi è? Degli italiani, che non sanno distribuirli bene. Beh vabbè insomma. Allora io non so se credere più alla nostra deficienza o a quella del Parlamento europeo, comunque la tesi della stampa, la tesi, l'informazione della stampa è interessante, staremo a vederla. Oggi non so su quale giornale, forse Stella, il Corriere della Sera, piagnucola la signora Mori perché non riesce a vendere una fiction sulle macchinette, sul gioco d'azzardo a Latini Andreatta, siccome Latini Andreatta non mi sembra abbia sbagliato una fiction negli ultimi 200 anni, forse ha capito che questa fiction della Claudia Mori è una cagata pazzesca. Però noi, siccome Claudia Mori ed è quel clan lì, dobbiamo forse fare un pezzo sul giornale, sul Corriere della Sera per dire che questo è sbagliato e soprattutto siccome il tema, cioè la ludopodia, è così importante, bisognerebbe farla. Quindi questa è la logica per la quale la Rai, invece se c'è una cosa che non sta sbagliando, sono esattamente le fiction perché fa cose che piacciono, non le minchiate che piacciono ai giornali che piacciono. Fa le cose che piacciono alla gente, fa il 35% con Montalbano. Questo è il motivo per quale Tini Andreatta non ne sbaglia una. Fatela sbagliare lì alle signore che non leggono manco un quotidiano o che ne leggono troppi, gestite da come si chiama, dal Conte Mascetti che fanno informazione al 2%, hanno canciato Semprini per fare informazione che ha lo stesso suo peso. Quindi, insomma, meglio sentire Tini Andreatta che le minchiate che scrivono i giornali che non vendono una copia, che addirittura vogliono che la televisione segui le loro intuizioni per non vendere una copia anche loro, una roba da matti. Bellissima invece, per una cosa inutile del Corriere, una cosa stupenda del Corriere, perché Aldo Cazzullo, che è in grande forma in questo periodo, lo devo dire, sia dalla Francia sia delle sue interviste, Aldo Cazzullo oggi fa un'intervista meravigliosa ad Arrigo Cipriani. Un'intervista in cui l'intervistatore fa un passo indietro e quello che parla è l'intervistato, cosa più unica che rara nel nostro modo di fare il giornalismo. Arrigo Cipriani dice di tutto su di tutti, probabilmente avete detto in altre interviste di Cipriani, ma è favoloso anche se volete trarci un po' la questione politica, che a me diverte sempre, ma anche se in intervista c'è di tutto, da un'assist alle grandi attrici che sono passate per Cipriani, alla galera che ha fatto Cipriani per evasione fiscale, patteggiando poi negli Stati Uniti, la cosa più divertente è che il 68 dice Cipriani non è più finito, non è mai finito. L'altro portato minchioso del 68 è che adesso non ci sono più i cuochi, ma ci sono gli chef. Mi ha detto io ho 400 cuochi, non ho 400 chef e quando uno di loro si è azzardato di andare in televisione senza chiedermi permesso, io l'ho fatto fuori. Cipriani è un mito. Vorrei intervistarlo a Matrix, adesso l'ho già fatto mi sembra Rigo Cipriani, l'ho intervistato una volta a virus, dovrei provare a rintervistarlo ancora anche per Matrix. Domani mattina sono all'alba via da qua, quindi vedremo a che ora potrò fare la segna stampa, ma state certi che voglio fare questa zuppa e tenerla sempre più in forma. Due notazioni di servizio, mi dicono che su Facebook questa zuppa esce dalle notifiche molto velocemente. Mi stupisco di questo, di ciò che avvenga, se qualcuno mi sa spiegare per quale motivo mi mandi delle mail personali qua su Facebook spiegandomi perché esce dalle notifiche, mi rivolgo a quelli più tecnologici di voi, così come questa rassegna è non così ben indicizzata nelle home, almeno dei 140.000 miei follower o quelli che scrivono mi piace dovrebbero rimanere nella home per un po' di tempo, mentre mi hanno fatto vedere che nella home rimane pochissimo. Non so da che cosa dipendano queste cose, so che queste cose però riducono moltissimo la diffusione di una zuppa che si è fermata a 140.000 di reach, 100-140.000 di reach e 20.000 visualizzazioni al giorno. Dobbiamo fare di più e cercherò di fare di più e cerco di farlo anche su YouTube e sul mio sito, se non lo conoscete andateci, dove c'è tutta la mia storia, tutti i miei articoli, tutti i miei video www.nicolaporro.it. Ciao, nicolaporro.it. Ciao.